Benvenuti nel mio mondo, zombie. L'abuso delle risorse del pianeta ha provocato lo spostamento dell'asse terrestre, scambiando il giorno con la notte e risvegliando i morti dal riposo eterno. A Centerville, da qualche parte in Ohio, il mondo chiede il conto agli uomini. A difendere la cittadina ci sono Cliff Robertson, capo della polizia, Ronnie Patterson, agente che sembra sapere tutto di zombie, e Mindy Morrison, poliziotta fifona che vorrebbe tanto fuggire lontano. Sei anni dopo aver immaginato dei vampiri decadenti e misantropi, disattivando tutte le convenzioni del genere, Jim Jarmusch realizza una commedia sui morti viventi e conferma l'orrore che gli ispira il mondo contemporaneo. Un mondo che non ha più niente da offrire. Su un pianeta dove tutto è furtuto, il regista esercita un'ironia irresistibile e rivela da capo uno stile che si fa morale e visione del mondo.